Entro un paio di anni diventerà il primo istituto internazionale dei padri gesuiti della Compagnia di Gesù. Parliamo del di Cagno a Brescia di Bari, in corso al Cile De Gasperi, donato a fine anni 70 alla compagnia dalla famiglia di Cagno a Brescia, una delle scuole più quotate della città fino al 2001. Poi, per problemi economici, i gesuiti decisero di chiudere procedendo anche alla cancellazione del vincolo per il quale era stato donato, e cioè la destinazione d'uso alla formazione scolastica, eccedendo l'immobile ad una società che lo diede in locazione ad altre realtà. Un paio di anni fa, il legale della famiglia, l'avvocato Gaetano Fidograno, scoprì l'atto notarile e lo impugnò, rendendolo nullo e ripristinando il vincolo. E qui è nata l'idea, inserire l'istituto nei collegi europei dei gesuiti che stanno nascendo in tutto il mondo e con successo sull'onda del nuovo corso impostato da Papa Francesco, coinvolgendo la Compagnia di Gesù nella gestione. Di qui la firma dell'atto di costituzione del Comitato per la rinascita del di Cagno a Brescia, propedeutico alla creazione della fondazione che gestirà la scuola. Comitato che vede coinvolto il Presidente, nonché ex sindaco di Cagno a Brescia, ex alunni, membri del Consiglio Direttivo, tra cui Luigi Iacobini, della Banca Popolare di Bari, tra i primi investitori. La rinascita dell'istituto di Cagno a Brescia con una nuova visione, una visione fedele a quella che è l'indirizzo dei gesuiti, ma aperta al mondo. Abbiamo fatto il primo passo verso quella costituzione della fondazione che si collegherà alle fondazioni nel mondo dei gesuiti.